che modo strano di iniziare un video è cosa ci vorrà comunicare alberto con questo riempimento del bicchiere beh allora molto semplice ragazzi quello che mi è venuto in mente visto che alla prossima tutina di mettere un pochino d'acqua all'interno del mio bicchiere per il modo che possiamo morbidi scatuto per poi poterlo pulire bene ho visto che il getto dell'acqua che ho aperto in maniera potente è andato fuori e questo mi ha dato uno spunto interessante quanto è importante nelle cose che facciamo di dare la giusta misura quanto è importante quando magari comunichiamo dal palco comunichiamo con una persona di tenere la voce in una certa maniera quanto è importante magari gesticolare in una certa maniera quanto è importante passare determinati concetti in una certa maniera quanto è importante una determinata tipo ritmo di corsa per poter arrivare a fare la conclusione di una maratona ecco il messaggio che volevo passare oggi è non importa il fatto di avere un'intensità incredibile quanto e l'ho imparato anche ieri in un corso di alfio bardolla di avere ritmo ritmo e un'intensità che possa essere congrua con quelle che sono le tue capacità se vuoi aumentarle poi c'è sempre la possibilità ma soprattutto che sia congrua con il risultato che vuoi ottenere come in un bicchiere che ha bisogno di del giusto oggetto in base alla posizione in cui è per essere riempito è importante che anche noi riusciamo a dosare la nostra intensità e a veicolarla nella giusta direzione buona giornata grazie grazie grazie